Brindisi e le scelte che verranno prese su Brindisi non è importante solo per Brindisi in se stessa, ma è importante per la Puglia, è importante per il Paese. Un duro attacco all'amministrazione comunale, Forza Italia prende posizione. Conferenza stampa fiume del deputato Mauro Dattis sui temi più caldi dell'attualità politica. Primo punto, Green New Deal, una questione, secondo Dattis, affrontata in maniera molto casereccia. Ho letto le sparate sui giornali di alcuni colleghi o dirigenti di partito. Rossi, da un sindaco mi aspetto che tiri fuori gli attributi per difendere il territorio. Sul porto noi riteniamo che ci sia una serie di opere bloccate per una serie di ragioni che sono interne ed esterne all'autorità portuale, per esempio. Rispetto a scelte politiche, diciamo a Rossi, facci sapere quali sono le tue posizioni politiche sulle opere pubbliche. Non possiamo conoscere la posizione del Comune perché c'è una firma di un funzionario, magari dirigente dell'urbanistica, che dice alcune cose. Voglio sapere, vogliamo sapere, Rossi come la pensa su tutte quelle opere pubbliche che sono ferme. Perché lo stesso Rossi si contraddice, fa un ricorso gerarchico contro decisioni che sono state prese sulla base di posizioni politiche del Comune stesse o posizioni tecniche, non si capisce. Sulla questione del porto lei ha parlato di clima di terrore giudiziario e poi di situazioni e posizioni equivoche da parte del provvedido erato. Sì, secondo, e questo io l'ho detto apertamente e sono pronto ovviamente ad affrontare la questione in Parlamento perché faremo un question time, visto che il ministro De Micheli, oltre a venirsi a fare la passeggiata qua a Brinsi, non ha neanche risposto all'interrogazione mia e della collega Labriola. È evidente che al provveditorato stanno succedendo delle cose strane perché opere che vengono autorizzate, le stesse opere che vengono autorizzate in altri porti, pare, non vengano autorizzate a Brinsi o comunque sia ritardato l'iter. Secondo, non è possibile che lo stesso provveditorato, dopo aver preso una decisione, quella stessa decisione qualche ora dopo, qualche giorno dopo, la cambi in funzione evidentemente di un clima giudiziario che si legge sulla stampa, per la verità non sto dando nessuna notizia. Infine, le questioni energetiche tra decarbonizzazione, Enel, Eni e A2A. Guardate, sono cambiate proprio le condizioni, non è che cambia la posizione di Forza Italia. Quando si parlava per esempio del sito ex Brindisi Nord, era un sito dove insisteva una centrale termoelettrica a carbone e si diceva che siccome il carbone continuerà, lì il carbone non ci doveva stare più. Adesso il carbone non ci sarà più né lì né altrove. Quindi è chiaro che noi ci siamo interrogati e abbiamo rappresentato anche oggi, chiamate dal cambio di posizione, ma proprio perché vogliamo fare il titolo del giornale, è semplicemente una seria riflessione che ci porta a dire che quell'area può essere tranquillamente utilizzata per tutte le attività a zero emissione. La sua centrale non sono state considerate tali.